Questo programma è offerto da Tecnocampus. Questo programma è offerto da Tecnocampus. Faccio io gli onori di casa per la stampa che oggi era, ed è detto, una conferenza stampa con il nostro candidato tabulista del Partito Democratico per la circostruzione del centro-sud. Per mettere al centro, e di questo la ringraziamo fortemente, il procuratore Roberti non solo ha dato l'onore al Partito Democratico di costruire una prospettiva di alternativa ai sovranismi e ai comunismi del centro-destra e della Lega, ma anche quello di dare un'occasione di speranza, di occasioni per il nostro futuro. Grazie oggi alla stampa che è presente e che ci crea le condizioni per poter far conoscere sempre di più quelle che sono le nostre proposte, non soltanto come comunità, come territori e come alternative alle destre, ma soprattutto una proposta chiara che crea una visione europea ed europeista della nostra terra. Noi votiamo sempre di più attraverso figure autorevoli che già hanno dato un contributo importante allo Stato e già hanno dato un contributo importante a debellare fenomeni di illegalità dei nostri territori con delle battaglie non soltanto di repressione ma anche di proposte e di costruzione di un modello sociale alternativo al sistema delle illecità e che ha creato le condizioni per cui oggi discutiamo di passare a un livello superiore, di entrare nelle istituzioni in un'altra parte, di costruire una proposta europea che dia risposte ai territori, che metta al centro il noi che solo simbolicamente mette al centro la Lega e che invece noi lo vogliamo fare con delle proposte sociali, con delle proposte competitive e con il tema della sicurezza che diventa anche un'occasione per i nostri giovani e lo vogliamo fare con il nostro capolista che non solo ha dimostrato nella sua vita e nella sua esperienza lavorativa il contributo forte allo Stato ma lo vogliamo fare anche immaginando che da questo contributo possiamo lasciare un segno, un filo per le future generazioni e che i loro sogni, le loro passioni, il loro futuro, le loro speranze diventino poi un'occasione da avere per il futuro e per fare questo dobbiamo avere dei simboli, dobbiamo avere delle figure che hanno dato con chiarezza e con limpidezza quello che è stato non soltanto il loro percorso professionale ma anche il percorso di vita dobbiamo lasciare ai giovani un'occasione, una speranza e per farlo questo dobbiamo costruirlo attraverso chi già ha costruito le condizioni sociali migliori per i nostri territori lo facciamo i prossimi giorni, ci saranno altre tappe che l'assessore Roberti ma il procuratore Roberti innanzitutto farà sul nostro territorio sia domenica sia so che la prossima settimana ci sarà un altro incontro invece quello sarà un incontro che faremo con i cittadini con l'intera comunità casertana per discutere delle problematiche del territorio una visione però che possa dare un respiro non soltanto di occasioni ma anche di speranza per i tanti giovani e per le tante donne della nostra terra quegli elementi e quei gesti e quelle negatività che sono accadute pochi giorni fa a Napoli con quel ferimento di quella ragazza sono il segnale che lo Stato ha necessità sempre di figure autorevoli e capaci di dare risposte serie noi pensiamo che ci debbano essere meno selfie e più invece risposte di coesione sociale e di sicurezza e si può fare soltanto con figure autorevoli come il procuratore Roberti facciamo prima il segretario cittadino e poi il provinciale dottore Enrico Tresca io faccio una brevissima introduzione porto il benvenuto al dottor Roberto conoscete tutti il procuratore e attuale assessore alla regione è un'occasione importante Carlo ha già parlato bene della prospettiva noi pensiamo che in questo momento una città come Caserta abbia la necessità assoluta di un'Europa diversa da quella che finora è stata costruita pensiamo che questa occasione non sia soltanto un'occasione rituale di rinnovamento di un organismo parlamentare europeo ma che questo organismo debba avere nuove prorogative e nuove funzioni questa è la proposta del Partito Socialista Europeo è la proposta del Partito Democratico e riteniamo che questo debba essere interpretato da autorevoli rappresentanti della sinistra, del centro-sinistra italiano e in particolare dal nostro capolista Franco Roberti avremo occasione di ospitarlo in città lunedì per un incontro pubblico con i cittadini e con i militanti per definire più nel dettaglio la proposta politica del Partito Democratico per il Sud Italia e per il nostro territorio è chiaro che siamo in una fase di grande difficoltà sociale sulla quale soffiano sempre più disordinatamente ma imperosamente eventi che sono di intolleranza e anche di rigurgito non direi solo sovranista ma qualcosa di più che la nostra storia già ci ha consegnato e che alla storia abbiamo consegnato come una lotta di liberazione però quello che sta succedendo quello che succede anche nell'utilizzo delle istituzioni è esattamente il contrario di quanto ha rappresentato Franco Roberti nello svolgimento del suo ruolo gli episodi di Napoli, di ieri in cui non si sa bene per quali motivazioni e con quali motivazioni è stato intimato e di Salerno è stato intimato a delle persone di rimuovere semplici manifesti di contrarietà e di opposizione legittima la proposta politica altrettanto legittima del Ministro Salvini il modello di scivolamento verso un autoritarismo di fatto è una cosa che è preoccupante per questo territorio ci sono segnali che rompono di fatto una coesione sociale riteniamo che a questo vado opposta non soltanto una proposta di tipo come dire, di protesta vado opposta una proposta seria di governo alternativa a quello che è messo in campo in questo momento e non si può pensare in questa proposta di fare tutto da sola l'Italia da sola non ce la può fare l'Italia non ce la può fare sia all'interno a sconfiggere sovranismi e neofascismi che si riaffacciano all'orizzonte storico c'è bisogno di più Europa e c'è bisogno di una Europa diversa per questo ne ringraziamo per la disponibilità data a Franco Roberti perché rappresenta appunto quel sforzo che il Partito Democratico sta facendo non soltanto per rinnovarsi all'interno ma per dare un contributo di innovazione e anche di serietà e competenza alla sua proposta elettorale quindi noi siamo onorati di ospitarlo a Caserta saremo ancora più onorati di ospitarlo lunedì nel momento in cui ci sarà un incontro pubblico perché riteniamo che incarni fino in fondo la proposta di novità del Partito Democratico grazie, grazie, buongiorno a tutti buongiorno alla Stamba io credo che questo è un momento importante per il nostro Paese lo credo perché viviamo diciamo un mondo di virtualità dove si leggono quelle cose ma poi la realtà è tutta un'altra cosa per esempio faccio sempre un esempio per essere diciamo anche concreto sulla storia di Totò quando era in vita era una persona che pochi diciamo di leggiano, no? pochi tenivano in considerazione poi morto vediamo un film, due film, tre film ogni giorno sulle varie televisioni così è questo governo noi capiremo fra qualche mese che cosa sta accadendo perché è un governo virtuale che legge i sondaggi stamattina la gente si sente poco sicura parliamo della sicurezza la gente si sente poco sicura parliamo degli immigrati ma vorrei capire che cosa sia cambiato da quando il processo l'ha governato Minniti a quello che il governo oggi sa dire vi capita spesso di andare fuori una pizzeria e trovare un ragazzo nero che chiede diciamo uno dei mosi oppure nei parcheggi li vediamo ancora oppure in una piazza li vediamo ancora che cosa è cambiato dai 600.000 immigrati che dovevano essere riportati nei paesi di origine qualche giorno fa mi sembra che il ministro abbia detto che sono 90.000 oppure che cosa pensare di un ministro che fa togliere dalla Vigos come diceva poco anzi Enrico uno striscione che si ribella a questo stato di polizia oppure un ragazzo che si fa un selfie che di moda è il selfie e si fa prendere il telefono il cellulare e cancellare il video io credo che sia un'involuzione molto pericolosa con questo governo oltretutto poi dopo un anno quali sono i risultati è un pil che decresce non cresce noi l'abbiamo lasciato all'1.7 all'1.6 oggi è 0.2 mi pare che la commissione di governo indica 0.1 o 0.0 che cosa è cambiato rispetto alla spesa delle persone voglio dire veramente è un paese che si è fermato è un paese che vede cessione e allora la lotta che facciamo per l'Europa io non parlo di Dottor Roberti perché non ha bisogno di essere presentato sappiamo è un segnale che dà il Partito Democratico di cambiamento di rinnovamento di percorso di nuove strade ed è quello che tutti i democratici vogliono quindi non parlo di lui sto più o meno diciamo insomma riflettendo a voci arte su quello che oggi è il nostro paese la promessa di Caserta Castelvolturna che è diciamo il luogo simbolo dell'immigrazione che cosa è cambiato da un anno fa quando è arrivato Salvini a oggi diciamo che il sindaco ha dovuto soffrire in un modo particolare perché ha 25.000 invisibili e nessuno gli ha tolto ancora il territorio oppure nessuno gli aiuta a come dire a sbrogliare la matassa e gli immigrati che troviamo dappertutto noi piaceva ricordare perché prima abbiamo incontrato il procuratore al comune il sindaco di Caserta ci ha ospitato ci ha anche offerto un carcosino un caffè un carcosino un carcosino un carcosino un carcosino e si parlava dei ragazzi dei centri sociali anche lì si sta facendo qualcosa si sta lavorando perché prevenire è meglio che curare come dicono i medici anche presenti quindi questa è la riflessione che va fatta il 26 maggio e che bisogna capire bene cosa sta facendo in Italia perché ci potremmo ritrovare tra 5 mesi al 2009 2010 grazie se posso intervenire grazie grazie sindaco grazie amici per essere qui presenti oggi allora io credo che questa sia come già stato detto un'opportunità e un'occasione di svolta importante e questo è stato il motivo fondamentale per cui ho poi accettato l'offerta di Nicola Ticaretti di dare la mia responsabilità a candidarmi come capolista per la circostruzione sud alle elezioni europee mi ha un po' meravigliato la telefonata di Ticaretti il quale però poi mi ha spiegato dice guarda che io ho pensato a te perché tu sei nel segno dell'apertura del partito democratico alla società civile alle professionalità alle esperienze alle attitudini diciamo di persone che non fanno parte non sono del partito non sono essenti però diciamo hanno posso andare ancora a qualche cosa però non ho saputo non tirarmi indietro anche perché ripeto l'occasione è unica per il partito democratico per il paese per l'Europa di rivedere e di ricostruire un percorso politico che secondo me si è interrotto o comunque si è rabilitato molto bene che cosa intende io intendo la politica come servizio così come ho inteso così come ho inteso nei miei 43 anni di magistratura la funzione giudiziaria come un servizio c'è un modo di intendere le funzioni istituzionali come servizio c'è un modo di intendere come potere come occupazione del potere come gestione del potere io non la penso così anche se purtroppo diciamo ho visto anche all'interno del mondo giudiziario diciamo persone che intendevano la funzione giudiziaria come potere io la intendo come servizio intendo la politica come servizio anzi come il più nobile dei servizi per i cittadini qui si tratta di ricostruire secondo me la politica partendo da questa da questa convinzione che la politica è servizio e quindi il servizio suppone l'ascolto il discernimento il confronto il dialogo la condivisione il collegamento tra istituzioni e cittadini se tu mi chiedi se voi mi chiedete come pensi di fare il parlamentare europeo io dico penso di essere una specie di ufficiale di collegamento tra il parlamento europeo e i cittadini che mi hanno eletto e i territori da cui provengo e che mi hanno eletto perché avverto questa mancanza di comunicazione questa mancanza di disponibilità che si rappresenta i cittadini in funzione di servizio nelle sedi istituzionali poi a informare i cittadini di quello che accade nelle sedi istituzionali anche e non solo i cittadini ma anche gli amministratori pubblici ora qui a Casetta siete bravissimi il sindaco Marino mi ha detto e lo sappiamo già che siete bravissimi anche a intercettare i fondi europei e utilizzarli appropriatamente questo è importante non sempre è così non in tutte le amministrazioni è così allora poter informare anche le amministrazioni e i cittadini quelle che sono le opportunità che ti offre l'Europa secondo me è una funzione molto importante poi c'è da ricostruire la politica ripeto come ascolto come confronto e come condivisione di idee e anche su questo l'Europa si sta presentando molto cari e io penso che dobbiamo partire da questo riconoscimento che l'Europa l'Unione Europea e attenzione non è oggi purtroppo più quella diciamo che noi sognavamo che non si è mai realizzata cioè l'Europa dei popoli l'Europa federale gli Stati Uniti d'Europa ma non è neanche più diciamo quel luogo di confronto quel migliore dei mondi possibili che pensavamo potesse essere l'Europa oggi sconta c'è anche un modo di fare politica che si è ridotto a scontro a tweet a male parole a insulti a aggressioni verbali spesso la botta anche non solo ma questa è la politica in Italia e purtroppo anche in Europa purtroppo anche in Europa però provare a ricostruire un modo di fare politica civile democratico di confronto sulla base di un progetto chiaro di alcuni punti molto chiaro guardate il programma del Partito Democratico potete confrontarlo con il programma dei grandi partiti vedete che il nostro programma è molto completo è molto più articolato rispetto agli altri e va diretto a cuore del problema sono 15-16 punti che toccano tutti gli aspetti diciamo di quella che dovrà essere e che non porrà essere l'azione politica e il Partito Democratico in Europa il lavoro l'occupazione la parità di genere quindi diciamo il riscatto diciamo del mondo femminile nel mondo del lavoro la parità di genere la difesa comune una politica estera comune una politica economica comune il superamento del principio di unanimità per quelle che sono le riforme fondamentali quelle che servono per esempio l'armonizzazione dell'aliquote fiscali è mai possibile pensabile accettabile che ancora oggi in Europa le aliquote fiscali non sono armonizzate sono dei paesi che sono i veri e propri paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea non è possibile bisogna arrivare superando il principio di unanimità arrivare al principio di maggioranza per affermare questo principio e introdurre la parità di un'aliquote per introdurre per arrivare anche a maggiori poteri deliberativi del Parlamento pensate a quello che sta succedendo con la riforma degli accordi di Dublino in materia di immigrazione il Parlamento europeo ha approvato la riforma degli accordi di Dublino ma la riforma non è operativa perché è bloccata dei consigli e da chi è bloccata è bloccata al principio di unanimità all'interno del Consiglio cioè da parte di due paesi che non possono accedere ai paesi dell'Europa dell'Est e temo anche l'Italia a questo punto temo anche l'Italia che peraltro non ha neanche forse neanche espressa su questa tematica perché il Ministro Salvini ha ritenuto di non partecipare ai lavori del Consiglio dell'Europa su questa tematica e sulla elaborazione della divisione quindi voglio dire c'è tardissimo la parma soprattutto c'è da riaffermare quei principi che stanno scritti in oltre 70 anni nella nostra Costituzione e che oggi sono principi anche europei che stanno scritti nel Trattato di Lisbono e nel Trattato di Fondazione Europea quei principi di dignità di libertà di uguaglianza di solidarietà di giustizia di cittadinanza tutte queste cose che ripeto stanno scritte nella nostra Costituzione che peraltro e vorrei riportarlo al ritorno del 25 aprile dove ci sono state alcune polemiche inutili sterili e siamo sintomatiche di un modo di concepire la politica e i principi costituzionali in modo assolutamente sbagliato la nostra Costituzione è fondata sul valore dell'antifascismo e dell'antifascismo non è un'opinione come un'altra l'antifascismo è il valore fondativo della nostra Costituzione nasce dalla convergenza sul valore dell'antifascismo delle determinati culture che esistevano all'epoca che esiste una cosa una cultura cattolica quella socialista e quella liberale allora ripeto l'antifascismo è un valore fondale chi non accetta come purtroppo una parte del nostro governo una parte si deve vedere che non accetta questo principio fondativo secondo me fuori allo Stato Costituzionale di diritto perché fuori dalla Costituzione fuori fuori ai principi su cui si fonda la nostra Costituzione e questo avrebbe ribadito in Italia va ribadito anche in Europa perché come sappiamo bene anche in Europa ci sono posizioni che negano diciamo il valore dell'antifascismo che affermano di diritto che hanno diciamo un pallone di diritto a principi opposti principi diciamo di nazionalismo di isonalismo di disciominismo e anche di fascismo allora diciamo la battaglia va portata su più piani sul piano dei principi e sul piano dell'unico per recuperare un ritardo nel cammino verso l'Unione Europea politica oltre che economica e anche per ripristinare diciamo un diritto all'interno dell'Unione Europea che purtroppo negli ultimi anni si è andato disperdendo allora ecco io credo per non farlo lunga credo che il nostro impegno deve essere questo credo che sarà una battaglia durissima ma credo che vada la vera combattola però perché serve diciamo per affermare principi di democrazia nei quali noi ci riconosciamo e che vogliamo che vengano come dire affondare questo sogno chiamiamolo chiamiamola diciamo prospettiva lunga di unione politica europea nel quale continuiamo costituzionalmente a creare grazie c'è qualche altro domande via nessuno alessia nessuno bene pd ha detto stampa tu si e la non ti confronto si si cosa farà per le donne specialmente per le lavoratrici e madri perché è un problema che io sto seguendo e avverto più di chiaramente allora c'è il principio della parificazione salariale qui è un principio di civiltà elementare secondo me che però deve ancora essere affermato deve ancora diventare di legge a livello europeo e anche a livello nazionale quindi questo poi naturalmente tutta una serie di potele di cui si parla da tempo a livello di parlamento europeo che non sono ancora diventate legge proprio per le lavoratrici madri insomma io credo che in definitiva bisogna affermare questi principi di civiltà all'interno di quale c'è anche il salario unico europeo salario minimo europeo ci sarà secondo me dovrebbe dire anche a contrastare quel fenomeno della delocalizzazione delle imprese verso i paesi dove non esiste un salario minimo e che invece diciamo e che tanto danno sta facendo alla nostra economia quindi c'è da recuperare tutti questi tempi sono dei tempi fondamentali sui quali io confesso diciamo ora mi spero di avere il tempo veneramente dopo l'elezione di aggiornarmi rapidamente sullo stato dei lavori ovviamente non conosco lo stato dei lavori attuali però bisogna partire proprio da questo la recupero del principio di parità tra uomo e donna di salario minimo e anche diciamo di altri principi che tutti ho fatto scendo prima a proposito della difesa europea comune di un'economia diciamo comune e del superamento del principio della limitazione io me ne sono occupato come assessora me ne sto occupando come assessora io ho preso con piacere dal sindaco e proprio c'è stato un momento diciamo importante di svolta perché adesso lo confermeranno voglio dire che fa parte della sua oggi lo dice il mattino si è trovata una soluzione alternativa rispetto alla necessità imposta anche dal sequestro giudiziario di fare i lavori di riattrazione di messa in sicurezza il piano di picio per poi eventualmente eventualmente questo lo si vedrà recuperarlo per quanto riguarda diciamo lo SPRAR per quanto riguarda diciamo l'ospitalità migranti però è una soluzione importante questo vi ho apprezzato molto che si sia trovata grazie al sindaco e grazie al vicepresidente Bonavitacola si sia trovata una soluzione temporanea ma diciamo di messa in sicurezza dell'immobile che è la prima cosa Presidente del Consiglio Comunale per farmi salutare il Consiglio Comunale volevo solo dare il benvenuto il nome di tutto il Consiglio Comunale e il suo cadale poi abbiamo una manifestazione la prossima settimana ma veramente la prima manifestazione della prossima settimana e volevo dirle che prima del presidente dell'incontro abbiamo avuto la sala del sindaco non si è parlato in realtà dell'incontro si è parlato dell'attenzione alla prevenzione dei fenomeni di violenza che non è solo un fatto lei diceva come fenomeno repressivo di polizia è un fenomeno sociale su quale noi come io per lo meno ma tutti quanti qui in questa età la concordiamo a Pino insomma il fenomeno e noi abbiamo fatto ancora un lavoro in questa città aderendo al bando delle periferie perché noi pensiamo che la regolificazione delle periferie non è un fatto solo architetto architettonico storico culturale ma è un fatto proprio sociale quindi curando le periferie si previne anche la regolenza si previne questi fenomeni che ci stanno colpendo in questione quindi siamo tutti contenti della sua cosa come lei ha detto e ha dato la sua disponibilità la candidata perché il partito la sosterrà pienamente quindi la ringrazio per questa sua accettazione e le do appuntamento a lunedì come manifestazione di partito procuratore una mattinata importante oggi un incontro importante con la città di Caserta e con i suoi cittadini si ieri sera sono stato a San Nicola la strada ed è stato un incontro molto bello e molto partecipato ugualmente oggi qui a Caserta parliamo di Europa parliamo di Parlamento europeo ma soprattutto parliamo di Europa dei popoli e quindi di quell'Europa che noi vogliamo e che vogliamo contribuire a ricostruire attraverso una presenza importante assidua costante e con proposte anche diciamo che poi fanno parte del programma del partito democratico per quanto riguarda lo sviluppo la crescita l'occupazione e anche diciamo una sovranità europea che non annulla le sovranità dei singoli paesi che ne fanno parte dell'Unione ma anzi devalorizza attraverso istituzioni comuni in tema di difesa in tema di economia in tema di esteri ecco questo dovrebbe essere i punti di riferimento di un percorso che va ripreso assolutamente con il nuovo Parlamento europeo io credo che il partito democratico deve può dare molto diciamo a questa ripresa naturalmente aspettiamo il riscontro dei cittadini ma io sono convinto che andremo bene ecco un cammino importante una sfida importante ma soprattutto per il cambiamento perché c'è tanto da cambiare sia in Italia ma anche in Europa certo l'alternativa all'Unione europea all'Europa dei popoli all'Europa che vogliamo è una non Europa l'Europa dei sovranismi l'Europa dei populismi l'Europa dei fili spinati e dei muri noi questo stato di cose naturalmente lo combatteremo con gli strumenti della democrazia della dialettica del confronto civile e siamo convinti di poterla spuntare ecco cosa direbbe ai cittadini ma soprattutto ai giovani che sono un po' sfiduciati in questo periodo storico io dico ai giovani credete nella politica fate politica perché la politica quando è al servizio dei cittadini per il bene comune è la più nobile delle attività umane grazie sindaco una mattinata importante oggi a Caserta si parla di europei si parla di future di prospettive beh assolutamente la presenza del procuratore Roberti candidato capolista del Partito Democratico all'Europa per il 26 maggio è per noi un onore è un piacere uno che ha fatto battaglie sulla legalità che ha difeso la nostra terra che ha creato le condizioni per fare sviluppo per fare competitività ha creato attraverso la repressione di un pezzo delinquenziale del territorio ha risolto grandi problemi lo Stato in quel momento è stato fortemente presente presente con le forze dell'ordine presente con la magistratura presente con tutte le sue forze le sue energie bene oggi siamo qui per condividere con lui un percorso futuro per permettere che una persona così autorevole così importante così capace di dare e affrontare problemi per la nostra terra lo faccia in un livello europeo dove dobbiamo combattere i sofranismi dove dobbiamo combattere i populismi dove dobbiamo mettere al centro i nostri cittadini la nostra comunità diventare cittadini europei pretendere sempre più diritti dalla comunità europea per fare questo come andare figure autorevole e Roberti capolista del Partito Democratico è uno di quelli che può darci un contributo importante per la nostra terra ecco legalità cambiamento il Partito Democratico è davvero il fulcro di questo movimento e di questo cambiamento che passa per l'Italia fino all'Europa assolutamente sì noi abbiamo bisogno di ministri degli interni che operano per la sicurezza dei nostri territori che creano le condizioni perché le nostre famiglie i nostri giovani siano sicuri quanto camminano meno selfie e più efficienza oggi abbiamo ragazze che vengono colpite in strada a Napoli un esempio gravissimo di quello che è lo Stato sociale in questo momento abbiamo bisogno di risposte certe per fare questo il Partito Democratico può essere alternativo a queste forze che creano soltanto terrore ma non danno speranza ecco sindaco come parlavamo anche con il procuratore poi è importante in questo cammino includere anche i giovani che si sentono un po' smarriti in questo periodo storico particolare questo è il lavoro grande da fare dobbiamo iniziare a mettere al centro i loro sogni i loro futuri i loro bisogni le loro necessità le loro speranze la loro passione la loro emozione per fare questo i loro sogni devono diventare occasioni per la nostra terra ecco perché al centro noi stiamo mettendo nelle nostre politiche le nostre iniziative sociali le nostre iniziative anche amministrative quello che è la capacità di prendere dall'innovazione giovanile dalle start up giovanili il futuro della nostra città e delle nostre comunità grazie grazie a lei una mattinata una mattinata importante qui a Caserta con il procuratore Roberti il capolista che ha spiegato un cammino importante anche del PD per l'europeo sì oggi abbiamo avuto l'onore di ospitare il procuratore e capolista Franco Roberti il progetto per l'Europa da costruire da parte del Partito Democratico e di partecipazione ad una proposta di rinnovamento come ha ben spiegato il procuratore durante la conferenza stampo un processo di rinnovamento che non può che partire dai valori fondanti della democrazia italiana ed europea a partire dall'antifascismo è un periodo difficile è un periodo in cui avanzano proposte disintegrative di una invece situazione politica come l'Europa che ha portato 70 anni di pace dopo la tragedia delle due guerre mondiali nel secolo scorso chi vuole disintegrare questo modello non ha evidentemente non solo memoria storica ma anche responsabilità verso il futuro nostro e dei nostri figli noi pensiamo che chiaramente questo modello vada preservato e vada implementato vada migliorato secondo i principi di una maggiore integrazione secondo la capacità di far diventare questo spazio uno spazio politico uno spazio di reale cittadinanza condivisa con le politiche del lavoro le politiche sociali le politiche fiscali le politiche di difesa che diventino effettivamente politiche dell'Unione europea e non dei singoli paesi che la compongono è un periodo storico complesso come ha detto anche lei per il cambiamento è necessaria anche una figura importante per quanto riguarda la legalità sì il progetto di legalità non può essere un progetto solamente repressivo c'è bisogno di proposte che siano di garanzia della coesione e dell'inclusione sociale anche in questo senso la figura di Roberti garantisce da questo punto di vista un punto di non ritorno rispetto invece a messaggi che sembrano voler mettere in maniera artata e strumentale gli ultimi contro i penultimi quello che è successo ieri a Roma e qualche giorno prima sempre nella città di Roma ma anche quello che succede nella gestione delle opposizioni al pensiero sovranista con accenti autoritari che incominciano ad intravedersi in maniera esplicita come è successo ieri a Salerno ci lasciano molto preoccupati pensiamo che la coesione sociale e l'inclusione sociale siano il vero elemento che debba delimitare il campo della legalità pensiamo anche che il ministro Salvini farebbe bene a occuparsi di quello che è successo per esempio a Napoli ma anche a Viterbo e in altre zone d'Italia piuttosto che continuare a fare una campagna elettorale perenne che serve soltanto a curare un suo orticello personale ed elettorale ma certo non a salvaguardare il benessere del paese e dell'Europa grazie mille un incontro importante questa mattina a Caserta con il procuratore Roberti poi ci sarà anche lunedì un nuovo incontro con i cittadini per parlare del cambiamento ma anche dei programmi delle prossime europee si stamattina era necessario far incontrare diciamo il nostro fuoriclasse con la stampa che è sempre così diciamo attenta specialmente anche la vostra tv insomma non è per essere ruffiano non è ruffianeria ma è così abbiamo bisogno di portare sul tavolo i temi dell'Europa ma soprattutto confrontarla con i temi dell'Italia come dicevo poc'anzi perché questa elezione che sembra un'elezione per il Parlamento europeo e lo è è molto diciamo si affinge molto sul fatto che ci misuriamo in Italia perché abbiamo un governo di dilettanti un governo che ci darà qualche brutta sorpresa tra qualche mese perché il PIL è arrivato quasi allo zero siamo in recessione e lo sblocco a cantieri nessuno l'ha visto l'immigrazione di cui tanto si parla di queste 600.000 persone perché sono persone che soffrono un disagio e che noi abbiamo accorto negli anni passati che hanno bisogno più che altro non di essere maltrattati come fa il nostro ministro Salvini ma hanno bisogno di essere accolti quelli che devono essere accolti naturalmente l'Italia da solo non ce la può fare però c'è un problema che è il trattato di Dublino come sappiamo tutti che è un trattato che ha firmato ha sottoscritto il governo Berlusconi dove c'era in quel governo anche la Lega e qui bisogna cambiare e non è stato cambiato come diceva anche il procuratore Roberti non è stato cambiato perché il consiglio non c'era un'animità e Salvini è uno di quelli che non è andato a votare per riformulare riformare questo trattato inoltre ripeto ancora che l'immigrazione gli immigrati che ci sono in Italia non sono stati riportati nei loro paesi di origine e li vediamo tutti i giorni e lo dico anche con un grido di dolore di sofferenza personale umana ragazzi giovanissimi fuori ai ristoranti fuori ai parcheggi a chiedere ad elemosinare questo è il cambiamento di questo governo è un governo che non dà risposte perché anche la quota 100 ci darà insomma delle brutte sorprese perché costerà tantissimo e le salvaguardie per l'IVA saranno dovranno essere sbloccate perché abbiamo bisogno nella prossima manovra finanziaria di circa 35 40 miliardi adesso euro più euro meno queste sono le cifre di cui si parla dunque l'Italia non si è fermata e io ho paura di un ritorno al 2007 2008 quando ritorneranno a pagare gli italiani perché pagheranno sempre gli italiani che devono risanare le casse dello Stato ecco un cambiamento dell'Italia passando per l'Europa ma anche passando per la Campania che è una terra difficile chi ha bisogno di cambiamento di uno sprone in più proprio magari da questi europei e non è un caso che diciamo il procuratore Roberti sia diventato sia stato nominato dal presidente De Luca assessore alla legalità noi abbiamo dei territori molto complicati io faccio sempre l'esempio di Castelvolturno dove un anno fa abbiamo visto arrivare questo ministro questo pseudoministro per quanto mi riguarda perché toglie la libertà alle persone libertà di farola di protestare di confrontarsi anche a volte anche a volte pesantemente io è arrivato a Castelvolturno promettendo di cambiare le cose a Castelvolturno ci sono 26 27 mila forse di più invisibili come può fare un sindaco ad assicurare un servizio di raccorta rifiuti quando la città ufficiale è di 22 23 mila abitanti e invece i rifiuti prodotti sono quelli di 50 mila persone come farà a fare fronte ai pagamenti per i conferimenti e con tutto quello che ne consegue quindi abbiamo bisogno di un governo che parli di meno che faccia meno selfie che faccia di più per gli italiani e soprattutto per le italiane perché mi sembra e dico mi sembra diciamo per garbo che questo governo voglia cancellare molti diritti che hanno ottenuto le donne perché siamo nel 2019 ancora parlando di parità io credo che sia una parola che debba essere cancellata perché non è come dire nemmeno in discussione la parità di genere è un uomo o una donna sono degli esseri umani uguali con gli stessi diritti ed anche con gli stessi doveri questo programma è stato offerto da Tecnocampus grazie a tutti